Ancora il numero 10, Philovid Bass. Restano in 11, partono 8 in prima fila e 3 in seconda. Dallo steccato Flushart, Feston Dippa, Fader Baitoni, Fionda Gall, Fruiser Bar Gall, From the Top LF, Fly in the Dark Gar e Falco Brid. Seconda fila per Fionaget, Figo Galis Leone e Faraone LZ. Partenza è veloce Fader Baitoni che scavalca Flushart a largo Fionda Gall in cerca di posizione più a largo ancora From the Top LF. Man mano si vanno delineando le posizioni, partiti con prudenza sia Fly in the Dark Gar che Falco Brid. Ed è il Sauro da D.A. Rembri affidato a Crescenzo Maione ad assumere l'iniziativa. 200 metri iniziali in 16, sposta dalla seconda posizione Flushart, ma Fader Baitoni fa intendere di voler agire al comando. 32 il quarto iniziale, terza posizione alla corda per Fionda Gall, a largo risale per gradi Fly in the Dark Gar trascinandosi Falco Brid. 48 e mezzo i 600, Fruser Bargall squalificato, altrettanto per Feistone D.A. 1.4 e mezzo gli 800, sempre Fader Baitoni leader nei confronti di Flushart, Fly in the Dark Gar e Falco Brid. Poi terza posizione alla corda per Fionda Gall, a precedere Fionagetta affiancata da Faraon LZ, chiude il gruppo, il numero 6, From the Top LF. 1.21 per i primi mille metri di gara, nulla cambia, nulla muta, nessuno fa la prima mossa e così il leader Fader Baitoni ne approfitta per andare ancora di conserva. Curva in 16,7 a lungo sulla retta opposta, una frazione in 15,8. Fader Baitoni, Flushart che si libera su una leggera indecisione di Fly in the Dark Gar che poi ritorna e lo va a coprire. Stop and go, stop and go del leader, 2.9 e mezzo il miglio, lo scatto in terza ruota di Falco Brid. Falco Brid a caccia del leader Fader Baitoni che allunga, si libera anche Flushart, retta d'arrivo. Fader Baitoni ancora in vantaggio, ci prova Falco Brid ma Fader Baitoni ha gestito alla grande. Fader Baitoni e Crescenzo Maione netti alla meta mentre la lotta per la piazza d'onore vede emergere Falco Brid di un'incollatura nei confronti di Flushart. Corsa molto tattica come è giusto che facesse il leader e vincitore Fader Baitoni presentato da Francesco Esposito. Il figlio di D'Aremni e Zelda Rab va davanti, gestisce a piacimento e chiude netto nelle mani di Crescenzo Maione per i colori della signora Anna Maria Gemma. Positiva la prova sia di Falco Brid che di Flushart. Mentre il quarto posto è conseguito dal numero 9 Fionaggetta. Grazie. 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 Grazie.